Ciao ragazzi, sono sempre Davide e questo è sempre Learn Italian with Davide, il podcast che vi parla di lingua e cultura italiana a 360 gradi. Questa puntata esce il 25 aprile e come ogni 25 aprile in Italia celebriamo il giorno della liberazione dai regimi nazista e fascista. Per questo motivo ho pensato di creare una puntata bonus proprio per ricordare la liberazione e la resistenza. So che inizierete a pensare Learn Italian with Davide è un podcast un po' pazzo, un po' anarchico che ha episodi bonus anche prima della puntata numero 1 e sì, è così, faremo in questo modo. Quindi, allora, oggi vi voglio raccontare una storia, una breve storia, dello scrittore italiano Beppe Fenoglio che ha combattuto durante la resistenza con i partigiani contro i fascisti vicino alla città di Alba, in Piemonte, nel nord Italia. La storia, da me adattata, si intitola Gli inizi del partigiano Raul. Allora, sigla e diamoci da fare! Sergio era un ragazzo di Castagnole nella collina piemontese e voleva arruolarsi, entrare nei partigiani per combattere i fascisti. Aveva solo 18 anni, un cinturone, un impermeabile e basta. Veniva da una famiglia di proprietari, gente con i soldi, che lo aveva mandato a studiare in città. Quando studiare era per pochi. Lasciato il paese, tirò fuori la pistola nuovissima e se la mise nel cinturone per dare un significato, per non sembrare solo un ragazzo. Ma era leggero e sereno come non mai. Aveva lasciato la madre vedova senza un marito, ma si sentiva figlio di nessuno, solo al mondo. Questa è la condizione ideale per fare due cose veramente dure per una persona. Andare in guerra e emigrare. Sergio andava in guerra. Arrivò a Castino, un paesino occupato dai partigiani e subito vide un partigiano, uno di questi, al posto di blocco. C'è il comandante Marco? chiese. Per cosa? Vorrei arruolarmi se non è troppo tardi. Come conosci Marco? chiese lui. E' famoso, tutti lo conoscono. Il partigiano ci pensò, prese una pausa e poi chiese. Mmm, hai del tabacco. Il partigiano si aspettava del tabacco di bassa, scarsa qualità. E invece Sergio tirò fuori due belle sigarette di ottima, buonissima qualità. Mentre l'uomo si accendeva una sigaretta, non ne aveva fumata una così buona da molti mesi ormai, sentirono un rumore. Subito Sergio si girò con la mano sulla pistola. Il partigiano restò immobile. Era solo una vecchia, che usciva di casa per chiamare le galline. Eh, stai attento ragazzo, devi saper distinguere i rumori se vuoi fare il partigiano. Prima o poi finisci male. Allora, mi dici dov'è Marco? In comune, in piazza, finì il partigiano. Poi lasciò Sergio lì da solo e andò verso una ragazza che stava arrivando dalla strada. Arrivato al comune, bussò la prima porta. Niente, nessuna risposta. Aprì. Nessuno, vuota. Provò allora la seconda. Niente, nessuna risposta di nuovo. Aprì e vuota ancora. Alla terza non bussò. Aprì e vide una ragazza con le gambe aperte e sopra di lei un uomo. Si staccarono e l'uomo lo guardava. Aspettava che Sergio, l'intruso, parlasse. Mi hanno mandato per trovare Marco, disse Sergio. Marco sono io, disse l'uomo mezzo nudo. Aveva la più bella faccia che Sergio avesse mai visto. Sono venuto per arruolarmi, se non è troppo tardi. Sei arruolato, rispose Marco. E in quanto essere tardi, non è mai troppo tardi. La ragazza nel frattempo si stava rivestendo. Ma mi sembra solo uno studente, pensò Marco ad alta voce. Eh, già. Bene, non ci sono tanti studenti tra i partigiani. Ne terrò conto. Poi vide la cintura di Sergio. Da un lato dell'impermeabile si vedeva la pistola. Hai fatto bene a venire con una pistola, perché qui non ne abbiamo altre per i nuovi. Da Alba siamo tornati con meno armi di quante ne avevamo quando ci siamo entrati. A proposito, come ti dobbiamo chiamare? Qual è il tuo nome per la guerra? Lui si era scelto il nome di Raul, fino dalla notte che aveva deciso di andare con i partigiani. Sapeva perciò come rispondere, ma si vergognava. Marco ripete la domanda. Si fece forza? E disse. Avevo pensato di farmi chiamare Raul, ma con un tono come se non ne fosse ben sicuro. Poi aspettò che Marco e la ragazza scoppiassero a ridere. Invece... Invece Marco disse. Eh, Raul. Un gran bel nome di battaglia. Eh, credo che sia l'unico Raul in giro per le colline. Hmm, bene, sei arruolato. Gli altri sono a fare tiri con la pistola. Vai a conoscerli. Uscito dal municipio, sentì gli spari delle pistole. Sentiva colpi ovunque. Non vedeva niente in alto. Allora capì che erano verso la valle. Prese un sentiero e vide i partigiani. Erano circa trenta e sparavano giù nella valle a quei cosi di cemento dove i contadini tengono il verdarame. Raul scese ancora e passò sul sentiero dei partigiani. Si avvicinava piano. Si sentiva molto peggio di quando era entrato per la prima volta a scuola. Forse gli avrebbero detto Sei nuovo, eh? Adesso che arrivi, hai fatto con comodo, eh? Bravo! Sei in ritardo di dieci mesi in confronto a noi. Dove sei stato fino ad oggi? Nascosto da qualche parte? E invece, ancora una volta, niente. Si fermarono, lo guardarono, poi tornarono a fare esercizio con la pistola. Raul si mise da parte a guardare i partigiani sparare. Non avevano una faccia umana. Sembravano senza espressioni. E allora, dopo un po', stanco di guardare, si alzò e si mise di fronte a un albero. Prese la pistola e sparò un colpo. Si fermò ad osservare. Non capiva se aveva preso l'albero o meno. Non c'erano segni. Era profondamente preoccupato. Così mise via la pistola con molta fretta. Ma era troppo tardi, perché uno dei partigiani aveva già visto la scena. Questo iniziò a sorridere e gli si avvicinò. Si chiamava Sgancia ed era con Marco da quattro mesi. Ma ne aveva già fatti altri quattro come partigiano in un'altra compagnia. Si sedettero e Sgancia chiese Fammi vedere un po' la tua pistola. Sgancia esaminò la pistola da ogni parte, la fece ballare sul palmo della mano e poi disse Una buona pistola, ma è soltanto italiana. Se la posò sulle ginocchia dicendo La mia invece è tedesca. Tirò fuori la sua e la mise in mano a Raul. Non sapevano che altro dire. Poi Sgancia disse finalmente Sai che io sono bravo a sparare. E Raul subito si aspettava una storia di SS, di fascisti ammazzati, uccisi da Sgancia. Invece Sgancia tirò fuori il portafoglio e da questo una serie di foto fatte a Luna Park con una pistola giocattolo. Raul cambiò subito argomento. Dimmi Sgancia, che tipo è questo Marco che ci comanda tutti? È uno con dei coglioni così! E Sgancia fece con le dita la misura di due bocce. Marco era già ufficiale nell'esercito e da borghese studiava all'università di Torino per diventare professore di... Boh, qualcosa. Ma invece qui in valle avevo per capo un meccanico della Fiat. Ha fegato, sì, aveva coraggio. Ma non aveva istruzione, non era andato all'università. Ci faceva uccidere per sport. Quando mi sono presentato, disse Raul, c'era una ragazza con Marco. Parli di Iole, abbastanza una bella gnocca. Non è una cattiva ragazza. Chi ci fa qui con noi? Chiese Raul. Dovrebbe fare la staffetta, portare informazioni tra gruppi di partigiani. Del coraggio a stare con i partigiani. Chissà perché è venuta. E Sgancia aggiunse. Io una volta gliel'ho chiesto e sai cosa mi ha risposto lei? Che essere una ragazza è la cosa più stupida di questo mondo. Un uomo si mise a urlare da sopra la collina. Sgancia e Raul, come tutti gli altri, si girarono. Era il contadino di quel terreno. E gridava. Ehi, sparate a quei cosi bianchi laggiù. Lo sapete che noi là dentro ci mettiamo il verde rame? Me li bucate e quando ci verserò il verde rame si perderà tutto. Smettetela subito o vado a dirlo a Marco. Un partigiano rispose. Sì, ma quei cosi bianchi sono l'unico bersaglio che c'è nella valle. Noi dobbiamo allenarci a sparare dall'alto in basso. Perché di solito noi stiamo in alto e i fascisti in basso. Altri partigiani gridavano e applaudivano. Ma il contadino finì. E allenatevi in un altro posto o vado a dirlo a Marco. Non aggiunse altro. Ma restò a guardare se andavano via. E dopo poco i partigiani andarono via. Andarono a tirare in una piccola chiesa. Sparavano la campanella. E ad ogni colpo giusto la campanella faceva DENG. E loro ridevano come bambini. A mezzogiorno risalirono la collina e andarono a una grossa casa di campagna dove era la mensa per mangiare. C'erano quattro lunghe tavole con intorno tante panche una bottigliona di vino per ogni tavolo e l'odore di carne arrostita nell'olio di nocciole. C'erano molti altri partigiani che Raul non aveva ancora visto. Seduti c'erano già Marco e Iole. Iole adesso portava pantaloni da uomo e aveva una mano sulla gamba di Marco. Non c'era ancora niente di pronto e così i partigiani cominciarono a rubarsi l'uno l'altro il pane fresco. Poi per fortuna arrivò il cuoco con le bistecche. Raul fissò Marco. Tagliava la carne con una specie di coltellaccio e sembrava non sentire niente. Allora per non guardarlo Raul iniziò a guardare da altre parti ma non voleva guardare i suoi nuovi compagni ed iniziò a guardarsi le mani. Poi rialzò gli occhi. Marco lo fissava e lo studiava. Tutti finirono la carne ma Raul non riusciva a finirla. Non andava giù. Quattro cinque si addormentarono sulla tavola. Gli altri iniziarono a fumare. Tanto. Iniziarono a parlare di politica. Il dibattito si faceva sempre più intenso. Chi era in favore del re? Chi difendeva i comunisti? Chi chiedeva l'aiuto degli americani? Chi era contro tutti? Raul era monarchico ma a modo suo amava il re come si ama una donna. Stava zitto perché aveva paura. Tutta la gente nello stanzone gli faceva una grande paura. Guardò Marco. Fumava una sigaretta e soffiava il fumo dentro un raggio di sole che entrava dalla finestra. Sembrava concentrato sul fumo ma di colpo gettò la sigaretta e uscì. Raul si guardò intorno e uscì anche lui di fretta dalla stanza all'aperto. Arrivò sulla strada della collina. Appena sulla strada si voltò di scatto perché gli era venuto in mente il pensiero che i partigiani nello stanzone credessero che lui disertasse e lo inseguissero con le armi puntate. Ma nessuno li inseguiva. Allora attraverso la strada camminando a passi storti sul bordo della strada disse Oh mamma, mamma! Si lanciò da una discesa ma era molto ripida e iniziò a correre. Non poteva fermarsi e cadde in un buco. Gridò A cosa mi serve aver studiato? Qui per resistere bisogna diventare una bestia. Io non me la sento. Io sono buono. Mamma, mamma! E pensò all'alba di quello stesso giorno ma è possibile che si trattasse solo di otto ore fa. Sua mamma girava per la cucina in pigiama e aveva la voce rauca come se una brutta notizia l'avesse svegliata nella notte. Sergio disse Una cosa giusta, mamma la parte buona è quella dove vado io. Anzi, io ci vado anche un po' tardi. Ci sono già andati tanti come me è meglio di me. Lo so che vai dalla parte buona e ce ne sono già tanti ma... Lei disse ancora Io dico solo che ci potresti andare al momento buono. E Sergio subito Ma è sempre il momento buono lo è stato fin dall'inizio e poi capisci che se per andare tutti aspettano il momento buono il momento buono non arriverà mai. Sua madre scuoteva la testa Non è ancora il momento buono. Guarda che sconfitte i partigiani si sono ancora presi dai fascisti ad Alba. No, non è ancora il momento buono. Sergio si era alzato da tavola ed era andato alla porta a passi indiretti. Mai le aveva sentita quella voce dura da uomo disse Ti piacerebbe che mi chiamassero codardo? E lei rispose forte Nessuno può darti del codardo se tu dici che non hai voluto fare male a tua madre. Uscì nel giardino e sua madre dietro si voltò a dirle di rientrare a lei non interessava e gli disse Tu non sei buono a fare quel mestiero non sei buono a fare quel mestiere non ne sai niente non hai mai fatto il soldato E lui Sono buono stai tranquilla mi difenderò Lei si mise a guardare in alto C'è un brutto cielo mi mette dei brutti pensieri Se devi partire parti una mattina che il cielo sarà un po' più bello Può già essere non so domani mattina Poi come lo vide in camminarsi al cancello gli domandò con un grido Ehi da che parte vai E lui Vado a castino voglio arruolarmi sotto il famoso Marco Fai conto che sia come in vacanza che sia come in vacanza dalla nonna Se solo fosse stato così inflessibile con sgancio e gli altri come con sua madre Rimase in quel buco per qualche ora Non aveva dormito Aveva fatto centinaia di pensieri tutti disperati nei quali dava la colpa ai partigiani che non erano come lui li aveva immaginati Dava la colpa a sé che aveva sbagliato a immaginarli Ma uscì dal buco e guardava verso Castagnole il suo paese e mentalmente calcolava che per tornarci c'erano quattro colline da passare e un tratto di piana Era ancora fermo sulla collina di Castino e già si vedeva aprirsi la porta di casa sua entrare e sedersi stanchissimo sulla prima seggiola la prima sedia della cucina Si sarebbe tolto il vestito che aveva indossato la mattina per andare in guerra avrebbe smesso anche tante idee ma gli sarebbe rimasto rispetto di sé perché da solo si era tirato fuori dall'orribile avventura nella quale si era cacciato da solo Pensando e ripensando alla strada per tornare a casa sentì il rumore di una moto era un rumore intermittente selvaggio Raul aveva paura erano i partigiani erano in giro ma non i partigiani di Marco ma gli altri quelli terribili quelli sconosciuti che non voleva di sicuro incontrare di notte proprio in quel momento la chiesa di Castino faceva le sei suonava come un saggio consiglio di ritornare e fu così contento di vedere illuminata quella finestra della casa dove era la mensa così Raul rimase con i partigiani e a cena nessuno nemmeno Marco gli domandò dove era stato l'intero pomeriggio dopo cena un altro partigiano Keen venne a dirgli che gli toccava fare due ore di guardia salì la collina e iniziò a vigilare l'essere solo e armato nella notte fu la prima grande sensazione che provò l'unica delle tante belle che aveva immaginato doversi provare da partigiano stava allerta stava attento ma senza paura non c'erano insidie nella notte si voltò a guardare giù alla cascina e la vide tutta spenta non c'era una luce chi ne sgancia Miguel e Delio e tutti quegli altri dormivano già prima di addormentarsi dovevano essersi detti che potevano fidarsi di lui potevano fidarsi di Raul essendo stato attento al campanile sapeva che il suo turno era già finito ma non voleva rientrare per dormire perché sentiva che sarebbero ricominciate le sue miserie le brutte sensazioni ma dopo un altro rumore di campana arrivò Delio e gli disse di scendere a dormire Delio dove si dorme? ma nella stalla dove dormono gli animali dove è la stalla? ci mise un po' a trovarla ma ci arrivò alla fine e aveva aperto cautamente la porta e si era fermato all'ingresso la stalla era oscura e nera e ne veniva un odore osceno due grosse cose biancastre oscillarono e si vedevano in quel buio quel nero e Raul capì che erano due mucche che si voltavano a vederlo entrare ma gli uomini coricati non erano assolutamente visibili non capiva dove andare provò a destra ma colpì col pieno un corpo ma nessuna reazione come morto coi piedi e con le mani aveva tastato se c'era spazio per il suo corpo e si era steso lì però non trovava una posizione buona soprattutto non sapeva dove sistemare la testa e pensava come sono ben bravi gli uccelli che possono metterla sotto un'ala le mucche facevano rumore con gli zoccoli poi il freddo aumentò e allora prese un po' di paglia eppure era stanco quella era stata la più lunga giornata della sua vita una mucca fece i suoi bisogni e Raul si riparò nella paglia si disse ma come mi sento male non mi abituerò mai non si sentiva al sicuro annusava sentiva il pericolo come facevano gli altri dormire erano sicuri di arrivare a vedere il mattino il giorno dopo ma dopo un po' minuto dopo minuto si addormentò iniziò a dormire la porta della stalla si aprì all'improvviso con un colpo rimbombante entrarono tutti uomini vestiti di nero fascisti pensò Raul puntarono potenti lampade elettriche per tutta la stalla era tutto illuminato come di giorno con la luce Raul vide le armi dei fascisti verso di loro a Raul quella luce passava un centimetro sopra la testa e si poteva credere che non l'avessero ancora visto poi uno di quegli uomini neri urlò un comando e tutti i partigiani si alzarono dalla paglia aiutandosi con le mani o la schiena contro il muro adesso li facevano uscire come mucche dalla stalla Raul si alzò e passò ultimo tra due fila di uomini neri sulla porta passando vide i simboli fascisti fuori davanti alla stalla c'era anche Delio a terra Delio non si muoveva lo avevano ucciso ammazzato li mandavano in mucchio contro il muro erano tutti soldati di castino mancavano solo Marco e la ragazza Iole sentì il partigiano Kinn dire piano a Miguel Marco è a dormire con Iole in un altro posto ma spero che poi trovino anche lui se no non è giusto solo noi e loro due no Raul voleva urlare ma non gli riuscì poi trovò la voce e cacciò un urlo no nello stesso istante si allontanava dal corpaccio di Miguel come fosse una piuma e correva e gridava non voglio non voglio lottò con un soldato che gli aveva subito sbarrato la strada e gli premeva la punta del fucile sullo stomaco ma lui urlava lo stesso no non è che non voglio morire ma voglio morire a parte morire da solo mi fa schifo dividere il muro con quelli là non li conosco non li poi uno scatto un colpo Raul sollevò la testa un po' alla volta nel buio faticosamente come se fosse una palla di piombo girando gli occhi vide per primo Delio stava seduto e si grattava la testa e la sua fronte era piena di rughe ed era vivo Delio gli domandò dormito bene per la prima volta questa notte e Raul gli disse ho sognato che ti hanno ucciso Delio disse mi ucciderei se sognassi delle cose di questo tipo ma rideva rise anche Raul e alla fine svegliarono tutti bene avete ascoltato il racconto gli inizi del partigiano Raul di Beppe Fenoglio io spero che questo racconto vi sia piaciuto e vi ricordo che trovate lo script e il racconto originale sul mio Patreon come sempre quindi slash Learn Italian with David e se vi è piaciuta la puntata potete lasciare un link o un commento vi ricordo di iscrivervi al canale o di seguirmi su tutte le varie piattaforme su tutti i vari canali se volete scrivermi la vostra opinione lasciare un feedback o come sempre suggerire nuovi argomenti o domande vi ricordo che ho un gruppo Telegram anche qui Learn Italian with David e vi auguro un buon 25 aprile quindi ci risentiamo presto ci troviamo sempre qui sempre sul podcast di Learn Italian with David ciao ciao